Continua l'inchiesta della Procura di Roma sul senatore Luigi Lusi, già tesoriere della Margherita, accusato di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione in debita. In attesa delle decisioni del Senato sull'autorizzazione all'arresto, i PM indagano sull'uscita dalle casse dei DL di diversi assegni in bianco per 2 milioni e mezzo di euro, dei quali non si conosce la destinazione. I PM romani devono distinguere tra soldi distratti, soldi mancanti, soldi accreditati per attività politiche, decine di milioni. L'ex segretario della Margherita, Francesco Rudelli, convoca una conferenza stampa in Senato e replica. Ma no che è un'iniziativa illegittima, perché è evidente che si tratta di finanziamento della politica. In qualche caso sono soldi che sono andati per attività personali. Lei ha citato bianco. Ma mi scusi, bianco aveva la contribuzione per i suoi collaboratori. Ma lei pare, scusi, che io che sto dedicando tanto tempo come presidente della Margherita, il mio dovere, da mesi, ovviamente lo faccio perché è il mio dovere istituzionale, lo faccio avvalendomi di alcuni collaboratori della Margherita, Enzo Bianco, idem, dov'è il problema? Non ho spiegato dov'è il problema? Prattanto la Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati Francesco Rudelli e Matteo Renzi per diffamazioni ai danni di Luigi Lusi. Atto dovuto, spiegano a Piazzale Clodio, dove non escludono una repentina archiviazione. Voi considerate che tutto quello che sta facendo la magistratura, lo ribadisco, ha la nostra collaborazione. L'attività istruttoria prosegue. Dopo la decisione del Senato, i PM riprenderanno gli interrogatori, cominciando dai commercialisti. Grazie a tutti.